Benvenuti sul nostro canale. Oggi vi racconterò cosa succederà nella puntata di Beautiful che andrà in onda in Italia il 28 giugno 2024. Preparatevi per un episodio ricco di emozioni e tensioni. La puntata si apre con Sheila che, a casa di Bill, riceve un messaggio urgente da Deacon che le chiede di incontrarlo subito. Bill, vedendo il turbamento di Sheila, suppone che lei stia pensando a suo figlio Finn e al nipote Ayes. Sheila conferma, ammettendo di aver rovinato tutto con loro e di sentire il peso delle sue azioni passate. Sheila propone di restare con Bill tutto il giorno e la notte, cercando di dimenticare il resto del mondo. I due iniziano a baciarsi, ma vengono interrotti da una chiamata di lavoro di Bill. Sheila decide che è giunto il momento di andare via e ringrazia Bill per tutto ciò che ha fatto per lei. Al ristorante Il Giardino, Deacon, appena incontrato un organizzatore di eventi, controlla impazientemente il suo telefono, sperando nell'arrivo di Sheila. Nel frattempo, Hope arriva per parlargli dell'appuntamento di Brooke con Hollis. Deacon rivela che Hollis ha detto che Brooke non è ancora pronta per uscire con qualcuno. Hope intuisce che Deacon prova ancora sentimenti per Brooke, ma lui insiste che quel capitolo della sua vita è chiuso. Hope sospetta che Deacon abbia una nuova donna nella sua vita, ma lui nega, dicendo che è impegnato solo con lei e con il ristorante. Hope gli offre il suo aiuto per l'apertura ufficiale del locale, che secondo lei sarà un grande successo. La conversazione si sposta su Douglas, e Hope confessa di dover ancora abituarsi alla sua assenza. Deacon è convinto che Douglas tornerà presto. Nell'appartamento di Deacon, lui ripensa i momenti trascorsi con Sheila durante Halloween. Sheila arriva, preoccupata per i rischi che corrono vedendosi. Deacon, ferito dalle sue parole precedenti, le spiega che non crede più di essere un fallito grazie a lei. Vuole che lei faccia parte delle cose belle che gli stanno accadendo. Sheila ribatte che è troppo rischioso, ma Deacon insiste, dicendole che lei è stata la spinta di cui aveva bisogno per realizzarsi. Alla Forrester Creations, Finn e Steffi discutono della minaccia rappresentata da Sheila e Bill. Nonostante Finn sia appena tornato dal lavoro, preferisce passare il tempo con Steffi invece di riposare. Steffi è determinata a proteggere Taylor e a trovare un modo per liberarsi definitivamente di Sheila. Finn concorda, ma entrambi sanno che la situazione è complicata. Hope arriva alla Forrester e ringrazia Steffi per tenerla informata su Douglas. La conversazione si sposta rapidamente su Sheila, e Steffi esprime la sua preoccupazione che Sheila possa rappresentare un pericolo imminente. Finn e Steffi ringraziano Hope per il supporto di Deacon, e Hope invita i due all'inaugurazione del ristorante di Deacon, sperando che partecipino. Steffi chiede se Brooke sarà presente all'evento e se Hope desidera che i suoi genitori tornino insieme. Hope spiega che Deacon ha ammesso che quella nave è ormai salpata e che è concentrato sul ristorante. Sperano che Deacon trovi una donna stabile che lo aiuti a mantenere l'equilibrio nella sua vita. E questo è tutto per oggi. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi riassunti di Beautiful. Alla prossima puntata!